Amici, buona domenica 17 dicembre, buona domenica sera, stasera per cena, polpette al vino rosso in umido e peperoni arrostiti nella friggitrice d'aria, si arrostiscono interi, poi si spellano e si condiscono che profumo, è pronta la cena, io ho passato tutta la domenica KO perché sono entrata alle 3 stamattina dalla discoteca con le amiche e quindi domenica a casa a cercare di riposare, voi come l'avete passata questa domenica amici? Un abbraccio a tutti e buon proseguo!